ok x prova di pagamento delle mystery box dal valore massimo di 2000 dollari negli scorsi giorni abbiamo pubblicato un video dedicato a uno dei migliori exchange che c'è sul mercato attualmente che ha aggiunto un bonus di benvenuto incredibile vi ricordo che il bonus di benvenuto per poterlo ottenere lo trovate in basso in descrizione troverete proprio il bonus di ok x tutto quello che bisogna fare per questo bonus l'abbiamo già spiegato nel primo video ma ve lo rispieghiamo è semplicemente registrarsi alla piattaforma inserire i dati e una volta fatto questo semplicemente registrandosi immediatamente riceverete una mystery box entro 30 giorni ma la riceverete immediatamente perché noi l'abbiamo ricevuta immediatamente per esempio noi nella nostra mystery box di registrazione abbiamo ottenuto mille shiba inu per capirci ok quindi dipende da da persona a persona dipende da bonus a bonus ma potete guadagnare fino a 2000 dollari di che cosa di bitcoin di ethereum di shiba inu di doge di dot eccetera eccetera e inoltre oltre questo ci sono anche dei bonus relativi alle carte sconto che sono essenzialmente delle carte che voi in automatico verranno usate quando comprate e vendete criptovalute su ok x e che vi daranno sconti sulle commissioni quindi se voi per esempio sull'acquisto di tot criptovalute dovevate pagare 50 dollari di commissioni vi faccio un esempio questi di 50 dollari vi verranno ridati sotto forma di usdt quindi anche questo è interessante naturalmente ricevere 2000 dollari di cripto è molto più bello altra cosa molto importante ne potete ricevere due mystery box perché in questo caso specifico dopo è la prima avete la possibilità di completare un singolo deposito di 50 dollari tramite l'acquisto di una criptovaluta o ricaricare il conto entro 30 giorni dalla registrazione riceverai un'altra mystery box quindi vi basterà semplicemente ricaricare il conto acquistare 50 dollari di criptovaluta per poter avere un ulteriore mystery box che è straordinario perché anche lì ci sono fino a 2000 dollari di bonus in più attenzione potete invitare i vostri amici a fare la stessa identica cosa e il vostro amico potrà ricevere due mystery box e voi per ogni amico potrete ricevere due mystery box detto questo adesso andiamo a vedere assieme la prova di pagamento vi facciamo vedere che comunque c'è stata una prova di pagamento da questo punto di vista apriremo appunto le mystery box insieme a voi e cercheremo di capire se siamo stati fortunati e se abbiamo ottenuto una mister all'interno di una mystery box il valore massimo di 2000 dollari più o meno apriremo all'incirca 45 46 mystery box quindi andiamo all'interno del mio smartphone ok eccoci qui siamo all'interno dell'applicazione di ok x e quello che noi dobbiamo fare adesso è all'interno della sezione exchange come vedete in alto dobbiamo cliccare su more qui ok e fatto questo dobbiamo andare all'interno della sezione referral ok vi ricordo che naturalmente avete la possibilità di ottenere il referral nostro dal link in basso quindi una mystery box attraverso il nostro link gratis senza deposito e un ulteriore seguendo le indicazioni che vi abbiamo detto all'inizio di questo video in più potete invitare i vostri amici e sbloccare le mystery box come quelle che vedete in sovimpressione guardate un po io qui scorro ce ne sono veramente tante e adesso le apriamo tutte quante insieme all'interno di questo video apriamo quindi la prima mystery box assieme quello che noi possiamo fare è muovere il telefono oppure cliccare due volte io in questo caso specifico muoverò il telefono e abbiamo guadagnato 0,18 fill clicchiamo su thanks e questi bonus attenzione vengono tutti trasferiti all'interno del nostro wallet di finanziamento quindi comunque poi ce l'abbiamo immediatamente nel wallet alla fine di tutto lo vedremo assieme adesso andiamo avanti e apriamo le varie mystery box e nel caso le commentiamo quando ci sono bonus davvero interessanti 0,14 dot niente male 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi faccio vedere al volo quello che abbiamo poi all'interno dell'account. Abbiamo ottenuto 0,0002 bitcoin, 0,59 dot, 46 doge, 0,08 okb, fil 0,18 e poi abbiamo 1000 shiba. Questo è quello che abbiamo ottenuto. E poi abbiamo anche ottenuto quelle carte rebate, USDT che praticamente sono delle carte sconto, che sono delle carte che noi possiamo usare quando compriamo e vendiamo criptovalute sull'applicazione, sull'exchange. Su quelle commissioni noi non paghiamo essenzialmente nulla perché grazie a quelle carte veniamo rimborsati. Quindi sono positive perché possiamo comprare e vendere criptovalute e fare trading all'interno della piattaforma a costo zero sfruttando quelle carte. Per quanto riguarda quindi gli sconti sulle commissioni di trading, quello che voi dovete fare è andare su asset, dovete andare sulla sezione le mie commissioni su trading. Fatto questo si aprirà questa schermata e praticamente come potete vedere qui abbiamo i nostri sconti che equivalgono a 44 dollari che è più o meno quello che avete visto precedentemente nelle mystery box. Naturalmente hanno una scadenza e praticamente questa scadenza è tra sei giorni per esempio di due USDT. Quindi state molto attenti da questo punto di vista specifico che sia per quanto riguarda gli sconti sia per le mystery box delle cripto potreste essere fortunati a ricevere 2.000 euro, 2.000 dollari di bonus. Quindi magari ricevete 2.000 dollari di bitcoin. Qui va molto a fortuna. È normale, è più semplice che accada che i bonus sono un po' più bassi, però comunque anche riuscire ad avere come avete visto un dot quasi, quasi un dot. Non è malvagia visto che comunque poi dot quando raggiungerà magari il suo massimale storico, comunque non ci sarà più il bear market ma ci sarà un bull market, il valore anche di tutti questi bonus andrà ad aumentare. Quindi da non sottovalutare, considerando comunque che voi poi potete comunque fare tutti i movimenti del caso per poter ritirare e prelevare. Quindi vi ricordo che avete due bonus di benvenuto, quello senza deposito dal link in basso, in descrizione vi basterà andare tra i vari exchange e troverete OKX. Poi ci sono anche gli altri se volete ottenere altri bonus e se invece volete ottenere l'altro bonus di benvenuto con un'altra mystery box dovete essenzialmente depositare i 50 dollari come vi abbiamo spiegato all'inizio di questo video e come vi abbiamo spiegato nel primo video dedicato a questo bonus. Noi vi consigliamo di partecipare quando sono bonus così perché comunque è tutto regalato alla fine. Naturalmente vi ricordiamo che il secondo bonus lo potete prendere anche acquistando criptovalute per 50 dollari barra 50 euro. Per sicurezza vi consigliamo sempre di convertire il tutto a 53-54 euro. Naturalmente se il video vi è piaciuto mettete un bel like, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su video di questo tipo e soprattutto naturalmente non perdervi opportunità di guadagno come bonus gratuiti che vi mettiamo a disposizione, ne avete visti un bel po' negli ultimi mesi da parte nostra di Criptovalute Italia. Vi ricordiamo anche di visitare il nostro sito web dove pubblichiamo notizie relative al mondo delle criptovalute e naturalmente noi ci vediamo in un prossimo video. Qui da Criptovalute Italia è tutto, ciao e a presto!